Ciao, sono Emanuela Moretti, sono del 97 e il mio ruolo è playguardia. Ho iniziato a giocare a palacanestro grazie a mio fratello più grande che già praticava questo sport e così all'età di 8 anni ho deciso di seguirlo nei suoi allenamenti e mi sono innamorata anch'io del basket. Come giocatrice di palacanestro il mio obiettivo è sicuramente quello di migliorarmi giorno dopo giorno e di provare a trarre sempre il massimo da me stessa. Oltre ad essere una giocatrice sono una studentessa e studio la facoltà di psicologia alla quale mi dedico con molto interesse e come hobby amo viaggiare e ascoltare la musica. Se non fossi una giocatrice di palacanestro sicuramente sarei comunque una studentessa e probabilmente una ragazza sportiva perché amo praticare lo sport. I momenti più importanti della mia carriera sono sicuramente l'esordio in Serie A2 sempre qui in questo palazzetto nel 2012 e la vittoria della Coppa Italia sempre in Maglia Diche due anni dopo. Il momento più felice però che ricordo della mia breve carriera cestistica è sicuramente la vittoria dello spareggio che abbiamo giocato a Campobasso qualche settimana fa. Questa è la foto che ho deciso di regalare a tutti i tifosi con la mia squadra che ritrae appunto noi dopo la vittoria in pose molto naturali e buffe. Appunto parlavo dei tifosi, ringrazio tutti i tifosi che continuano a seguirci e li saluto.